4 di ottobre nel giorno del patrono d'Italia San Francesco d'Assisi parte la 69esima mostra mercato delle piante e dei fiori ornamentali più comunemente conosciuta come la festa dei fiori una festa che per il secondo anno si trova in viale della Repubblica. L'anno scorso era una novità condizionata anche dai lavori di rifacimento di piazza del popolo ma l'esperimento a quanto pare è riuscito i florovivaisti tornano sul lungomare tra centro e mare tra centro e la palla di pomodoro in questa che è una location apprezzata così come viene apprezzata questo allungamento a cinque giorni di festa dei fiori. San Francesco per i pesaresi è la festa dei fiori quindi che abbia preso questo giorno e poi a seguire fino al fine settimana va benissimo. L'abbiamo molto apprezzata questa posizione perché è molto più pratica per noi e ho visto anche per comunque i clienti che riescono anche a prendere le piante e portarsele in macchina quindi è molto più agevole diciamo come posizione. Sembra di stare quasi a giugno è spettacolare c'è un sole meraviglioso anche le persone sorridente l'ambiente se stare in mezzo al verde comunque tocca il cuore. Stanno sono cinque giorni e per fortuna si presenta una bella settimana davanti e sarà comunque carica perché un giorno più insomma porta tante persone e ci sarà tanto lavoro da fare ma sempre felici. La festa dei fiori è un tradizionale biglietto da visita su quelli che sono i colori autunnali apprezzati anche da temperature un po' meno autunnali che però agevolano la passeggiata in questo che è un viaggio alla scoperta della tradizione tra fiori piante piante grasse ma anche oggetti come quelli di terracotta le zucche che ci fanno da ponte verso Halloween una linea comune poi ognuno ha le sue specificità. Quest'anno sono le zucche che abbiamo coltivato noi dove produciamo e quindi sono una nostra produzione e più abbiamo sempre i nostri ciclamini che allo stesso modo produciamo e poi rivendiamo direttamente qua. Partiamo dai fiori poi vendiamo anche i vini e altri prodotti anche prodotti da cucina. Produciamo a scuola e poi veniamo a venderli qua. Piante grasse, dalle succulenti alle cactacee, un po' di tutto insomma. Tutta la linea del bonsai e poi quello che proponiamo noi è anche il giardino verticale appunto che si vede qua fuori e il giardino pensile sopra poi i rampicanti insomma e le piante come tutti gli altri dai insomma adesso però ecco questo è quello che ci caratterizza anche proprio come vivaio. Noi tutti gli anni ecco prepariamo tantissimi bulbi e abbiamo fatto anche delle attività. Stanno tra l'altro abbiamo inserito ulteriormente altre tipologie di bulbi e quindi speriamo che le persone colgano questa cosa e ne piantino tantissimi. Noi come sempre abbiamo portato i nostri crisantemi perché siamo produttori di crisantemi, facciamo dai 15 ai 20 mila vasi ed è un prodotto proprio autunnale, loro fioriscono in questo periodo e poi comunque il ciclamino che è sempre diciamo la pianta più gettonata in questo periodo perché nel periodo invernale le fioriture sono comunque diciamo meno rispetto alla primavera e poi sempre qualche novità anche sulle piante da interno, le varie tipologie di piante, abbiamo visto che anche i giovani stanno diciamo cercando molto le piante più particolari da tenere in casa, molte delle quali purificano anche bene l'aria quindi diciamo abbiamo una vasta proposta.